Edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo tornando a parlare della sicurezza degli edifici scolastici e della loro vulnerabilità sismica, argomento di cui si parla tanto in questi giorni, soprattutto dopo il suono della prima campanella. E noi a questo proposito abbiamo ascoltato l'opinione del vicepresidente nazionale del Lancia al microfono di Paolo Renzetti. Noi ritengo che si è stato fatto ben poco, perché poi in realtà su tutti questi problemi che riguardano la manutenzione, ordinaria o straordinaria, se ne parla solo ed esclusivamente il giorno dopo che cade un cornicione o il giorno dopo che un tombino si blocca e una famiglia rimane intrappolata da dentro. Questo è un paese che non vede la manutenzione come un valore, ma lo vede solo come un qualcosa che deve essere invocata il giorno dopo che succede la tragedia. Poi gli altri 364 giorni non interessa niente a nessuno. Voi che avete però ovviamente un occhio vigile su tutta l'Italia, su tutto il paese, evidentemente forse questi problemi, questi controlli sono stati trascurati in passato. Sì, intanto è un problema di controlli sicuramente, è un problema di risorse pure, ma è un problema di sistematicità, perché se noi diciamo che in un anno si mettono a posto tutte le scuole di un singolo territorio, è una cosa inesatta, non credibile. Penso che dovrebbe essere fatto un programma, perché se poi tu fai un programma anche pluriennale e poi lo rispetti, ne veniamo a capo. Tanto non c'è la possibilità di chiudere tutte le scuole o di concentrare risorse solo su una parte d'Italia. Serve di programmare la manutenzione, è il deficit di questo paese. Questo problema si collega anche se indirettamente alla ricostruzione, che è in atto in Abruzzo per il post-terremoto. All'Aquila soprattutto si sta ricostruendo una città e ci sono comunque anche lì dei problemi. Vabbè, intanto diciamo che all'Aquila, già essendo un po' più antico il terremoto, sono riusciti ad avviare le macchine. Il problema è che con questo secondo terremoto, quello di Amatrice, insomma di agosto, di due anni fa, in realtà sembrerebbe che tutte queste procedure che avrebbero dovuto semplificare in maniera trasparente, parlo della cosa più banale, la rimozione dei detriti, non abbiano funzionato, perché di qualche settimana fa queste foto aeree, dove sembra che i detriti siano tutti esattamente in sito dove stavano due anni fa. Sta funzionando la ricostruzione all'Aquila secondo lei? Allora, tra aspetti positivi, aspetti negativi, tra luce e ombre, io penso che ormai la ricostruzione dell'Aquila si sia avviata. Penso che tra il terremoto dell'Aquila e il terremoto che c'è stato in Emilia-Romagna erano tutte esperienze per correggere, per addrizzare l'obiettivo da utilizzare in questo nuovo terremoto, però sembra che in Emilia e all'Aquila tutto è partito e qui non è partito niente. Al netto del fatto che Errani, che il commissario ha abbandonato, io temo che da qui a qualche mese, quando il tempo sarà inclemente, ne vedremo delle brutte purtroppo. Ci spostiamo a Teramo adesso perché il sindaco Maurizio Brucchia annuncia che non si dimetterà dalla carica di primo cittadino. Per amore e fedeltà alla sua città insorge l'opposizione che giudica però la scelta di Brucchi ipocrita e perché legata ad una sua mancata candidatura al Parlamento da parte di Forza Italia. Il servizio è di Tania Bonnici. Castelli. Non me ne vado, non abbandono la mia città, resto per amministrarla e ricostruirla. Con questa domanda che ha fatto durante l'ultimo consiglio comunale, Maurizio Brucchi ha dissolto ogni attenzione in chi da mesi non aveva certezza sulle intenzioni del primo cittadino. Brucchi dice di voler restare fino al termine del suo mandato che scade a maggio del 2019. sempre che i suoi alleati glielo consentano. Lo scoglio dell'approvazione del bilancio è infatti dietro l'angolo e si registra una certa maretta tra i consiglieri di maggioranza che fanno riferimento al vicepresidente del consiglio regionale Paolo Gatti. Nessuno di loro ha gradito la scelta del sindaco Brucchi dei vertici della Team ritenuta fatta in perfetta solitudine. La dichiarazione di amore e di fedeltà alla propria città e al proprio ruolo da parte del primo cittadino di Teramo ha provocato una reazione infuocata da parte dell'opposizione che ha stigmatizzato l'ipocrisia contenuta nelle affermazioni del sindaco. Per il civico Gianluca Pomante il vero e semplice motivo per il quale Brucchi resta in carica è che non è riuscito ad ottenere dal suo partito Forza Italia un posto blindato al Parlamento. Gian Guido D'Alberto, ex capogruppo del PD, sottolinea la precarietà amministrativa in cui Teramo ormai da anni e quanto l'immagine della maggioranza esce distrutta da dissidi interni per nomine e poltrone. Altro che amore e fedeltà nei confronti dei cittadini, chiosa infine Maria Cristina Marroni, se Brucchi non avesse avuto intenzione di candidarsi al Parlamento, perché non smentire quelle voci? Già mesi fa? Il Movimento 5 Stelle denuncia la decisione della Regione Abruzzo di togliere l'indennità di rischio ai medici delle guardie mediche che dovranno restituire anche le somme percepite in base alla retroattività di questo provvedimento. Vediamo. Una nuova mazzata nei confronti della sanità regionale, questa volta nei confronti dei medici, dei medici di continuità assistenziale che sono le guardie mediche, alle quali nel 2006 era stata riconosciuta un'indenità di rischio giustissimo a nostro avviso, perché ogni giorno loro rappresentano quell'avamposto a tutela del diritto della salute in zone montagne, in zone impervie, in zone delle aree interne, si trovano a contatto anche con pregiudicati, con persone che mettono a rischio la propria inconnuità, quindi questa indennità di rischio riconosciuta nel 2006, oggi la Regione Abruzzo dello stesso colore politico con delle libera di giunta, gli chiede indietro tutte le somme percepite e in più la sospensione dell'indenità di rischio. Per ognuno di loro varia qualcosa come 40-60 mila euro ognuno che dovrebbero restituire la Regione Abruzzo. Questo a seguito di una semplice richiesta di chiarimento da parte della Corte dei Condi, senza nessun provvedimento definitivo. A nostro avviso è una scelta scellerata, operata da parte della Regione Abruzzo, che sta danneggiando i medici di guardia nei confronti ai quali noi dovremmo fare operazioni di valorizzazione e di potenziamento e io ho chiesto con un'interregolazione regionale di sospendere e revocare immediatamente la delibera di giunta, ridare questa indegnità di rischio a queste persone, ma comunque non chiedere, non ripetere nessuna somma indietro. Io ho fatto il mio lavoro di guardia medica dal 90, prima a Chieti e stavamo vicino al CERT, quindi la sera con tutti i tossici, con tutte le loro litigate. Poi sono passata come dipendente, come titolare dal 2005 a Celano, un ambiente abbastanza difficile con Aielli, Cerchio e Ovindoli con la mia macchina e mio marito che veniva con me perché la sera io stavo in un distretto grandissimo da sola. Adesso la regione pretende da me un recupero di quegli 11 anni e 7 mesi che io ho fatto a Celano con 104 km andate e ritorno e il ticket che dovevo pagare per l'autostrada. Noi chiediamo, loro possono anche decidere se questa indennità di rischio sia stata a noi data se sia giusta o non giusta, ma non la retroattività perché là ci sta, noi siamo la parte passiva come diceva Pettinale perché là c'è stato un accordo integrativo regionale dove ci sono stati l'assessore e le sigle sindacali, quindi noi non c'entriamo niente, noi non abbiamo chiesto niente e sono loro che devono pagare se effettivamente. Poi per i prossimi anni ne possiamo parlare, però poi ci devono dare la macchina, la guardia giurata, ci devono pagare l'indennità non di rischio, ci devono pagare le nottate, le adi, tutto e tutto ci devono pagare, questo sì. Cinque sindacati rappresentativi della polizia penitenziaria del supercarcere di Lanciano hanno indetto lo stato di agitazione e da domani fino al 18 settembre ci sarà l'assenzione dalla mensa di servizio. La protesta ha l'obiettivo di ridurre le tipologie di detenuti presenti proprio a Lanciano per chiedere l'invio di altro personale e la drastica riduzione delle sezioni detentive. Le organizzazioni sindacali Will, Sappe, Osap, CNPP e Sinappe hanno inoltre chiesto un incontro urgente al prefetto di Chieti Antonio Corona per valutare le ricadute della carenza insostenibile di personale nella casa circondariale frentana sia sulla sicurezza del territorio che dei lavoratori. Sabato scorso l'ultimo episodio di aggressione a un agente da parte di un detenuto. I sindacati hanno chiesto un intervento definito concreto e forte anche alla senatrice Federica Chiavaroli, sottosegretario di Stato alla Giustizia, che ha già visitato il carcere ed è a conoscenza delle problematiche della polizia penitenziaria. In una nota ufficiale i sindacati avvertono che se inascoltati inaspiranno le proteste nei modi che riterranno più utili alla protesta stessa. E i sindacati escono delusi invece dal tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvertenza Onewell di Atessa. I rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato il gruppo dirigente della multinazionale americana per discutere della gravissima crisi che sta colpendo lo stabilimento a Tessano. Resta ferma la convinzione che lo stabilimento chiuderà l'anno prossimo. Vediamo. Previsione vuota e ridicola per la Aniwell di Atessa nei prossimi tre anni. Questo è il commento della FIOM CGL all'indomani dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere dell'avvertenza aperta per lo stabilimento di Val di Sangro. I sindacati hanno incontrato il gruppo dirigente della Onewell per discutere della gravissima crisi che sta colpendo lo stabilimento a Tessano. Erano presenti anche le istituzioni locali. Nel corso dell'incontro la Onewell ha presentato una previsione per i prossimi tre anni e riferisce il segretario FIOM Davide Labbrozzi vuota di contenuti e ridicola per quanto concerne la possibilità di considerare credibili le poche cose dichiarate. Resta ferma la convinzione della FIOM che lo stabilimento Onewell di Atessa chiuderà l'anno prossimo. I sindacati hanno nuovamente chiesto un vero piano industriale, un piano fatto di investimenti, numeri produttivi e strategie industriali complessive per il rilancio della fabbrica che fino ad ora era stata considerata uno stabilimento di eccellenza della multinazionale. Nelle prossime ore si terranno le assemblee sindacali e in quell'occasione FIOM FIOM e Wilm decideranno il da farsi. La FIOM intanto resta convinta che l'unica strada da seguire è quella del conflitto sindacale. Ci spostiamo a Peschiara adesso perché nuovi pannelli informativi tra qualche giorno entreranno in funzione ai varchi di accesso delle zone a traffico limitato. Lo ha annunciato il vice sindaco Antonio Blasioli. Telecamere di accesso alla ZTL, vice sindaco Blasioli, c'è qualche problema che state risolvendo e che risolverete nei prossimi giorni? Telecamere per il rispetto del codice della strada e delle zone che noi abbiamo inteso limitare la circolazione stradale. Ora alcune di queste telecamere naturalmente sono già in funzione ma l'amministrazione comunale con un progetto ha inteso installare dei pannelli informativi. Pannelli che dicono se il varco è acceso o è spento e quindi per informare in trasparenza gli automobilisti della nostra città nel momento che questi devono entrare in queste zone a traffico limitato. Per fare questo abbiamo dovuto installare dei nuovi pannelli e soprattutto dei nuovi varchi, 4 in particolare. Tutti questi pannelli e questi varchi saranno collaudati la prossima settimana, eccezione fatta per 3 dove ci serve ancora l'attacco dell'Enel e quindi ci vorrà qualche giorno in più. Questo significa che per la prima settimana di ottobre potranno entrare in funzione e naturalmente in quella settimana ci sarà un pochino di moratoria, non faremo multe ma sarà soltanto una settimana informativa e poi subito dopo cominceremo naturalmente a sanzionare gli automobilisti indisciplinati. L'Università Telematica Nettuno approda nella città di Lanciano. Ampia l'offerta formativa con possibilità di sostenere gli esami e laurearsi nella cittadina frentana. È a Lanciano la sede dell'Università Telematica Internazionale Uninetuno per Abruzzo e Molise. La convenzione è stata siglata a Palazzo degli Studi dal presidente dell'ITS Sistema Meccanica di Lanciano Gilberto Candeloro con il rettore dell'Uninetuno Maria Amata Garrito e con il presidente del Consorzio Universitario di Lanciano Gianni Orecchioni. Testimone il sindaco di Lanciano Mario Pupillo per l'occasione definita storica in fascia tricolore. Questa è una vittoria non solo per Lanciano come città dei servizi, ha commentato il sindaco, ma per l'intero comprensorio. È infatti il polo tecnologico il primo riferimento. Ai diplomati ITS di Lanciano saranno riconosciuti 110 crediti formativi per poter accedere poi al corso di ingegneria gestionale, in modo da integrare le materie e iscriversi al terzo anno universitario. Uninetuno ci offre la possibilità di darci 100-110 crediti, quindi gli studenti che partono oggi con noi se integrano alcune materie universitarie di ingegneria del primo anno come analisi, come fisiche, come altre, possono poi alla fine del nostro corso, che già offre il 90% di occupabilità, possono con un altro anno integrare la loro formazione e diventare ingegneri gestionali, che è una delle qualifiche più richieste in questo territorio e in altri territori. Ma l'opportunità di Uninetuno è grande anche per chi vuole fare dei master, che magari già lavora e che non ha possibilità, e poter fare dei master e degli esami a Lanciano credo che sia un'attrattività grande anche per molti studenti che già lavorano o altre persone che vogliono solo qualificarsi ulteriormente con un master. La terza possibilità è un'università normale. L'offerta formativa dell'Uninetuno a Lanciano è di sei facoltà e 29 corsi di studio. A Palazzo degli Studi, ora Polo Tecnologico, è attiva la segreteria assieme alla biblioteca online. Torniamo a Teramo perché per un mese sarà la capitale del cinema naturalistico e ambientale. Il tema conduttore di questa edizione riguarderà l'arma dei carabinieri e le loro attività a favore dell'ambiente. Vediamo. Al Via, a Teramo, la diciassettesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale. Quest'anno il tema conduttore è dedicato ai carabinieri e all'ambiente. Il festival si svilupperà in due momenti. Il concorso con prevenzione in Piazza Martiri sabato 23 settembre durante una serata condotta da Veronica Maia e la rassegna. Quest'ultima si svolgerà nel mese di ottobre ed è indirizzata alle scuole. Ci sono otto documentari selezionati da una giuria di esperti, è chiaro. Noi assegneremo sei premi, di cui tre, quattro cinematografici, quindi miglior film, miglior documentario, al valore scientifico e un premio Natura Ambiente a quelle persone che grazie a loro attività hanno contribuito alla salvaguardia dell'ambiente. Durante la settimana di rassegna prevista dal festival, nelle scuole a parlare agli alunni saranno proprio i carabinieri forestali. Le nostre foreste, i nostri boschi diventano, grazie a questo festival internazionale, internazionali. Esatto, esatto. Questo è un focus, una lente di ingrandimento che questa manifestazione può mettere sui nostri boschi e sulle nostre foreste che ovviamente hanno una valenza internazionale e per la prima volta questa manifestazione riuscirà a connetterle e quindi a rappresentarle al grande pubblico. Le nostre foreste sono ricche di una serie non solo di biodiversità ma anche di valori culturali, di uomini, di saperi, di esperienze, di biologia che sono uno scrigno indescrivibile di cultura. Oggi con questa manifestazione abbiamo l'opportunità di far conoscere al grande pubblico anche fuori dell'Italia, fuori dell'Europa, questa realtà forestale che è di primissimo piano. Prevenzione contro gli incendi? Quando si parla di boschi, quando si parlano di natura, si parla sempre anche di prevenzione perché la prevenzione è alla base di queste dialettiche e di queste conoscenze e per gli incendi assume una valenza importantissima. Noi abbiamo visto che cosa significa il fuoco, che cosa che danno può produrre al nostro patrimonio forestale e il fatto che se ne parli oggi con questa bellissima manifestazione è anche un riconoscimento e anche un avvertimento a non dimenticare questo problema da parte della collettività e della nostra società. I carabinieri protagonisti in questo festival del cinema naturalistico, come mai? Perché i carabinieri da quest'anno hanno assorbito l'ex corpo forestale dello Stato è divenuto un comparto di specialità veramente professionale ed occorre in un certo qual modo unire oramai con i colleghi, ora carabinieri forestali, le attività specialistiche loro nell'ambito del nostro servizio istituzionale. Dal 16 al 18 settembre feste patronali a Città Sant'Angelo con lo svolgimento anche della Sagra dell'Uba e del Premio San Michele oltre a concerti, eventi folcloristici e appuntamenti dedicati al fitness e allo sport. Feste patronali, festa del perdono a Città Sant'Angelo dal 16 al 18 settembre tre giorni di grandi appuntamenti perché non ci sarà solo la festa in sé per sé. Sì, il programma è davvero ricco, per quanto riguarda quello civile direttamente curato dall'amministrazione comunale ci sono diverse iniziative, da quelle tradizionali come la 34esima Sagra dell'Uba fino ad avere delle novità. Torna il premio San Michele d'Oro, un premio, un riconoscimento che la comunità angolana attribuisce a quelle personalità che si sono contraddistinte nell'ambito della cultura, dell'economica, comunque che hanno dato tanto per Città Sant'Angelo che l'amministrazione comunale riconosce quest'anno a una ditta che ha portato a livello economico tanto per Città Sant'Angelo, la Barberina S.P.A. e alla memoria dell'onorevole Natali che veramente Città Sant'Angelo deve molto a lui. Poi ci saranno tante novità come Sport e Benessere che le attività sportive di Città Sant'Angelo animeranno il centro storico con le proprie esibizioni, con consigli. Poi ci saranno le degustazioni delle migliori cantine abruzzesi e di prodotti tipici locali. Quindi davvero per tutti i gusti ci saranno concerti importanti tutte le sere quindi dal 16 al 18 settembre a Città Sant'Angelo per la festa patronale. E prima adesso la pagina di Sport e partiamo dal Pescara che domani sarà impegnato alla Rechi di Salerno. Ci saranno novità nell'undici base che Zevan manderà in campo proprio domani alle ore 15. In rampa di lancio il giovane Canutè e poi due senatori come Balzano e Bovo pronti al debutto stagionale al posto di Mazzotta e Coda. In attacco Capone e in vantaggio su Benalì, indisponibili Palazzi, Mancuso, Latte Latte e Campagnaro. Vediamo il servizio di presentazione di Andrea Costantini. A Salerno non mancheranno novità nell'undici del Pescara che la Rechi proverà a dare una spallata al tecnico Granata-Bollini a rischio esonero dopo il brutto inizio di campionato. Dalla seduta di riferitura traperano fino a quattro novità. In difesa toccherà ad Antonio Balzano e Cesare Bovo, entrambi al debutto stagionale. Il terzino di Bitonto, tornato in biancazzurro a fine mercato e con un paio di settimane di lavoro è pronto a giocare dal primo minuto e si prenderà la fascia sinistra al posto di Mazzotta. A Cesare Bovo, Zeman consegna le chiavi della difesa, capacità di guidarne i movimenti e di impostare dalle retrovie sono le attitudini che il boemo chiede all'ex toro il quale sarà spalleggiato da per rotta con coda dirottato in panchina. A centro campo l'infortunio muscolare rende indisponibile Palazzi che avrebbe ambito ad una maglia dal primo minuto. Confermati i proietti e Brugman, la novità potrebbe essere Frank Canutè, sacrificato Koulibaly. In attacco ancora fuori causa Mancuso e Latte Latte, certi di un posto pettinare del sole. A sinistra Capone e in vantaggio su Ben Ali. Provare soluzioni diverse alla ricerca di migliori equilibri ma anche dosare le energie in vista delle tre giornate condensate in sette giorni. Per questo Zeman cambia le carte in tavola. In casa salernitana grande pressione sulla squadra, un punto in tre giornate. Tante le incognite, sia sul modulo sia sugli uomini, molti dei quali sono in condizioni precarie. In particolare Tuia, Oger e l'ex lancianese Gatto. Davanti a Radunovic, certi Bernardini e Vitale. A destra balottaggio Perico Pucino col primo favorito. In mezzo Schiavi o Mantovani se Tuia darà forfè. In mediana potrebbe rivedersi Zito con Ricci e Minala. In attacco la certezza il centravanti Bocalon, fiancheggiato dal 97 Scuola Lazio e Alessandro Rossi a sinistra e Sprocati a destra. Un 4-3-3 che può diventare 4-4-2 con Sprocati a Zito esterni e Rossi seconda punta. Direzione di gara alla penna di Roma 1. 31 i precedenti alla Recchi con netta supremazia della salernitana. Vincente bene 19 volte a fronte di 6 pareggi e 6 vittorie del Delfino. L'ultimo sorriso del Pescara in terra campana il 30 ottobre 2004. 0-2 con le firme di Terra e Job. Nel 2006 l'ultimo confronto con uno spettacolare 2-2 e le reti di Verde e Lapadula per il Delfino, Coda e Donnarumma per i Granata. E sono 22 i convocati da Zdenek Zeman. Poco fa diramata la lista dei giocatori che partiranno dunque per Salerno. Li vediamo. Fiorillo, Pigliacelli, Balzano, Bovo, Coda, Crescenzi, Mazzotta, Perrotta, Zampano, Benali, Brugman, Carraro, Culibali, Canutè, Proietti, Valzania, Baez, Capone, Cappelluzzo, Del Sole, Gans e Pettinari. Questi sono i 22 uomini a cui si affiderà il tecnico Boemo che andiamo ad ascoltare dopo la seduta di rifinitura di questa mattina. Zeman dice di aspettarsi dei miglioramenti dalla sua squadra. Ma io delle novità mi aspetto la crescita della squadra. La squadra siamo oggi in 22. Vabbè bisogna lavorare, poi lavorando bisogna scoprire che cosa va e che cosa non va. Attualmente, ripeto, per me è un problema di applicazione di aggressività in fase difensiva perché poi in fase offensiva qualche cosa la facciamo sempre. Vabbè, voi date sempre Brugman per regista. Io ho detto che l'anno scorso l'ha fatto a fine campionato in Serie A per esigenze. Per me non può fare regista nel senso che non mantiene posizione. A lui ci piace. È un giocatore offensiva e ci piace attaccare. da registi di solito che attaccano, poi lasciano scoperto qualcosa. Cioè, lei lo vorrebbe sempre vicino a proiettivo? Lui è uno che piace, tecnicamente è bravo. Si distingue per eleganza sul campo e quindi si pensa che può fare tutto. Ma una squadra non è fatta solo su eleganza e su tecnica. Vabbè, su Canute parla la storia. Lui è venuto qua, hanno fatto provino con Koulibaly. Come Canute è più tecnico, sa stoppare la palla, sa giocare la palla. È passato provino Canute e non Koulibaly. Quindi differenza è più sul piano tecnico che sul piano fisico. Koulibaly però è uno che ha giocato con noi l'anno scorso. Ha giocato, quindi sa in questo momento più di Canute e come ci si deve comportare. A mio parere, poi di solito si fa la formazione su quello che si è provato. Penso che Bollini ha fatto sempre 4-3-3 anche l'anno scorso. Cambiare all'improvviso o lo fa per gli avversari, c'è noi, nel senso che cercherà di chiudere più esterni o se se la gioca come è abituato. Vabbè, io non dico che ha idee diverse dalla mia. Penso che con la Lazio ha dimostrato che, come dice lui, si può fare calcio. Sento che dopo Cragnoti c'erano grosse difficoltà, lui si è messo a posto. E in Serie C domenica invece il Teramo scenderà in campo contro il Ravenna al Bonolis. Asta potrebbe riproporre quasi per intero la formazione uscita sconfitta dal Menti di Vicenza. Non più tardi di domenica scorsa senti certi Amadio infortunato e Graziano squalificato. Dunque due assenze nella zona nevralgica del campo. Davanti a comporre il tridente con Foggia ci dovrebbero essere Tulli e Baccio Terracino. Partirà invece dalla panchina Mohamed Soumare, arrivato da poco dall'Avellino. Per l'esterno offensivo scendere di categoria però non sembra essere un problema. Lo ascoltiamo. Penso che posso crescere perché durante il ritiro ho fatto la parte atletica ma non sono mai sceso in campo. Quindi penso che migliorerà. Onestamente posso giocare un po' da tutte le parti davanti. Sia a destra, a sinistra che in centro. Quindi diciamo che la posizione veramente non importa. Soprattutto che dipende anche dalle partite. A volte ti trovi meglio sul lato e a volte più in centro. Quindi non importa veramente. Penso che abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo giocato bene di squadra. Siamo stati un po' fortunati all'inizio. Ma penso che anche senza questo abbiamo giocato bene. Non è che siamo andati lì timorosi. Abbiamo affrontato la partita come si doveva. Ma le mie impressioni già prima della partita della squadra era buona. Quindi è solo stata una conferma diciamo. È ovvio che con la squadra che abbiamo e con la mentalità nostra scendiamo in campo sempre per ottenere il massimo. Sicuramente domenica affrontiamo la partita per fare tre punti. Non la sto vivendo male. La sto vivendo diciamo normalmente. Mi preparo e sto mentalmente come se fosse ancora in B. Non guardo che non è la Serie B, è la Liga Pro. Non guardo così. Guardo solo che abbiamo una squadra. Dobbiamo fare bene. E sperando che anche io faccia bene. Quindi diciamo non lo vedo come un passo indietro o qualsiasi cosa del genere. Personalmente spero già scendere in campo il più spesso possibile. E poi fare buona prestazione. e magari anche fare un po' di buone statistiche sia gol che assist. Con questo servizio si chiude anche questa edizione del TG6. Vi ricordo gli spazi informativi con la nostra redazione. Domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di mattino 6. Il TG6 invece torna domani puntuale alle ore 14. Tutto, buonanotte. Il TG6 invece torna domani puntuale alle ore 14.